Oh guarda un nuovo video caricato Noh aspetta è solo un altro video pieno di stupidi depravati Non mi piace Ma che schifo questo video è pieno di merda Non mi piace Un momento Fatik è una ragazza Non mi piace Vi prego basta con questi video di Minecraft e Call of Duty Non mi piace Noh ci mancava solo il video di Daft Park Non mi piace Questo film è a pagamento? Non mi piace Questo video è pieno soltanto di pubblicità Non mi piace Questo video è ben fatto, è montato bene Mi dà anche l'impressione di essere moralmente sostenuto Non mi piace Ho bisogno di più esplosioni Non mi piace Questo video è carino e molto divertente Non mi piace Questo documentare sulla natura non mi trasmetta il buon'emozione Non mi piace Questa non è per niente un'animazione della Disney Non mi piace Oh questo video è divertentissimo Lo guarderei per tutto il giorno Non mi piace Non mi piace E' un'animazione della Disney 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 E' un'animazione della Disney